Disse che dovevo andare con lei, che 11 anni erano l'età giusta per cominciare a prendere qualche lezione di sex appeal. In effetti io di sex appeal non sapevo niente. Associavo il sesso con l'essere arrabbiati. I gatti quando lo fanno sembrano arrabbiati, come tutte le star del cinema. Beth Davis, Barbara Stanwyck, cattivissime. Bella Lynn e le sue amiche stavano comodamente sedute al col caffè sotto le loro acconciature voluminose a soffiare fumo.